Perché i giovani sono le famiglie del futuro, anzitutto, e quindi puntare su di loro con un premio giornalistico ci sembrava, visto che noi siamo un'attestata giornalistica che peraltro richiama direttamente alla famiglia, ci sembrava davvero una cosa interessante, una cosa giusta. In un momento nel quale peraltro le giovani generazioni si trovano in grande difficoltà, forse questa è la prima generazione che è meno fortunata delle generazioni precedenti dalla fine dell'ultima guerra mondiale, per tantissimi motivi interni ed esterni. E quindi abbiamo pensato con l'agenzia che conosciamo da tanti anni e che seguiamo con molto interesse per le politiche di benessere familiare che sta portando avanti da tempo, pensavamo appunto che questa poteva essere una bella iniziativa. Aggiungo e concludo, ci sembra anche importante in un momento in cui la professione giornalistica sta attraversando un momento di transizione, non direi solo di crisi, ma di transizione a livello epocale, perché il passaggio al digitale, il passaggio ai social ha rivoluzionato il mondo dell'informazione, letteralmente rivoluzionato, mettendo in difficoltà le giovani generazioni di giornalisti che si affacciano a questa professione. E quindi il concorso vuole anche aiutare con una ovviamente piccolissima contributa, però a volte davvero anche solo vincere un concorso può lanciare a una professione, può far decidere che quella è davvero la mia vocazione, la vocazione del giornalista. E per questo noi davvero speriamo che siano tanti giovani che partecipano e che vogliano mettersi in competizione tra di loro.